E tu saresti stato l'uomo generoso che aveva fatto del bene a tre poveri disegraziate. Non mi ho domandato più perché non ti dico. Non ti ho pozzerisci. E tu devi essere galantuomo. E non devi domandarmelo mai perché tu capisci che l'interesse li metterebbe l'uno contro l'altro. Sono tre uomini. Non sono tre uomini. E i figli sono chi le che si danno in braccio quando sono piccinelle. Chi le che ti hanno preoccupazione quando stanno malato e non ti sanno riesce a sentire. Ti corre un incontro con i braccioli aperti e ti dice papà. Chi le che viveva in ira scuola che in mani le fredde con un asilo russo e ti cerca una bella cosa. Ma quando sono grosse quando sono gomma o sono figli tutto quanto o sono amici tu stai ancora a tempo io male non te lo voglio lasciamo dei cose come stanno e ognuno va va a strada sui. grazie a te� grazie a te Grazie.